Mi trovo presso la Cine Teatro La Providenza in occasione dello spettacolo portato in scena dal gruppo Teatrando dell'Oratorio di Santo Libio di Cannalonga dal titolo La Speranza Vincerà. La rassegna che da qualche anno vede protagoniste le compagnie cilentane e questa sera abbiamo avuto l'Oratorio di Cannalonga, compagnie legate alle parrocchie e anche non legate alle parrocchie, compagnie che portano in scena spettacoli anche prodotti da loro stessi, quindi diamo l'opportunità a queste persone di mettere in mostro i loro talenti. Dicevereste voi una vita senza amore? Una vita senza amore? Te lo dico io che l'ho vissuta una vita senza amore. Una serata meravigliosa, piena di emozioni ma che è stata un successo, che ci riempie di orgoglio perché stiamo lavorando bene, stiamo lavorando con lo spirito giusto che renda questi eventi così partecipati e sentiti. Siamo contenti di questo risultato, del messaggio che è stato portato avanti durante il musical e speriamo di ripartire subito con un nuovo progetto. Siamo contenti di questo risultato.